Un'app per segnalare episodi di bullismo e di spaccio arriva anche ad Arezzo Yupol la nuova applicazione della Polizia di Stato scaricabile direttamente sullo smartphone. Ci consente di ricevere messaggi dalla utenza allegando anche delle foto e dei filmati e in particolar modo per segnalazioni di bullismo e droga. Un'app che si rivolge ai giovani ma non solo perché le situazioni di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti possono essere segnalate anche da altra utenza di riferimento. Come nasce questa applicazione e perché rivolgersi ai più giovani? Questa applicazione nasce da un progetto ministeriale, c'è stato un periodo di sperimentazioni sulle grandi città in particolar modo su Roma, su Catania e su Milano e successivamente a questo periodo di sperimentazione che c'è stato in queste grandi città si è pensato a livello ministeriale di diffonderla anche nei piccoli centri. Si rivolge prevalentemente ai giovani perché delle volte si è verificato che nelle fasce più giovanili ci sono dei motivi di timidezza o comunque di imbarazzo che portano i giovani a non comunicare direttamente queste notizie di reato alle forze di polizia. Tramite IUPOLA si potranno così inviare segnalazioni anche in via anonima alla sala operativa della Questura. Nel momento in cui questo messaggio viene recepito dalla sala operativa della Questura ci sarà direttamente una pattuglia che si regherà sul posto e verificherà la notizia che è stata segnalata.